bello a tutti ragazzogli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo941 e oggi siamo organizzati siamo tornati su the very organized tiff cos'è questo giochino ragazzo lo conoscete solamente perché era uscito già un video sul canale e anche tanti altri video tempo fa ovvero noi siamo un ladro che si entromette si entra diciamo in una casa abbiamo una lista della spesa praticamente delle cose da rubare e dobbiamo farlo prima che torni il proprietario di casa il proprietario di casa tornerà e nel momento in cui lui torna noi dobbiamo cercare o di evitarlo e continuare a rubare o andare nel garage e scappare il più velocemente possibile aprendo la porta che c'è all'interno del garage io non ricordo quanto avevo fatto l'ultima volta come record signori ma non perdiamoci in chiacchiere partiamo allora ok ci siamo ci siamo così si corre così si cammina con shift si va più veloci se non sbaglio può essere può essere con shift si va più veloci sì e poi con q se non sbaglio c'è la lista della spesa allora chitarra computer portatile questo ti serve no così spegniamo la torcia questo tipo servire come si prendono le cose raga keep up questo prende no allora con la barra spazzatrice si prendono le cose allora cerchiamo un attimino di capire cosa ci serve l'uovo l'uovo no alla gold bar giù il box che cazzo non è quel cosa enorme chitarra computer il televisore lo vuoi il televisore l'abbiamo preso ok ci sono soldi 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 dammi sti soldi allora dammi sti soldi il coniglio c'è una festa pasqua ah perché pasqua quindi hanno messo il coniglio pasquale mamma mia che cose brutte e giuli tablet radio 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 fatto la festa di pasqua radio radio microonde lo vuoi no microonde non lo vuole microonde non lo vuole altri soldi per noi soldi pigliali soldi pigliali che sono interessanti soldi pigliali questo non ho mai capito a che serve raga boh abbiamo tagliamo tutte cose così non dovrebbe scattare allarme ma non so perché cosa non dovrebbe scattare allarme qui hanno fatto altre feste tab tablet game console computer tower allora qui non c'entra nulla raga qui non dobbiamo prendere nulla andiamo 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 apri questa porta per questa porta dobbiamo trovare allora il computer portatile il computer portatile il la il no è tornato di già di già è tornato no 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 già è tornato il tizio signori già è tornato Il tizio è già tornato il tizio Già è tornato il tizio Non abbiamo trovato niente a questo giro A questo giro non abbiamo trovato nulla Allora fermi tutti Il computer Non è questo il computer che vuole Quale cazzarola di computer La console Ok il televisore No il televisore non lo vuole più Apri i cassetti No è tornato prima Il quaderno No mi sta già picchiando No mi sta già picchiando di brutto Guarda che zio che ti tiro Ti tiro Ti tiro un vaso sai Te lo tiro No siamo morti Mannaggia ci ha picchiato così di improvviso Siamo morti Siamo morti niente Prima è andata male raga La prima è andata male La prima è andata male Riproviamo riproviamo Devo un attimo in organizzazione Un attimo meglio con le dis Allora saliamo subito sopra Che di solito sopra si trova tutto Allora painting Tablet Laptop Painting Ti piace? Ok un painting l'abbiamo preso Un quadro l'abbiamo preso raga Un quadro A caso Nel bagno c'è l'anello Lo vuoi l'anello? Perfetto No l'anello non lo vogliamo C'è un uovo di Pasqua dentro la vasca Ma che cazzo Ci fanno questi Con l'uovo di Pasqua dentro la vasca Apri di qua Apri di qua Apri apri No questa è chiusa a chiave Mannaggia Allora Apri 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 Soldi 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 per noi Soldi per noi Soldi per noi Soldi per noi Il coniglio Pasquale Lo vuoi? Oh abbiamo preso pure il coniglio Pasquale Che cosa bella Qui 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 La macchina fotografica La macchina fotografica L'abbiamo presa Bello così C'era qualcosa lì? No non c'era assolutamente niente Qui se non sbaglio C'è la cassaforte Ma ancora non abbiamo trovato Soldi per noi Bella così Bella così Abbiamo preso un altro coniglio Pasquale Ma quanti cazzari di conigli Stiamo prendendo? Tablet Laptop Computer tower Allora dai 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 Salve Questa è la camera da letto Il computer Bello così La console la vuoi? No la console non la vuoi? Il cestino No il cestino non serve Questo non serve a niente Allora qui dovrebbe essere una volta Qui c'erano i codici In uno di questi cassetti Stavolta no Torniamo nella camera da letto Signori miei Questa che cos'era? Un'altra camera da letto Ok un altro coniglio Pasquale Un altro coniglio Pasquale Piglialo Ok apri qua E qui non c'è nulla Devo trovare un codice Oh soldi interessante Devo trovare un codice Cazzarola della miseria Devo trovare un codice Mi date un codice Soldi dentro l'armadio Così buttate a buffo Che cosa carina Me lo dai Non lo voglio tutto il comodino Non mi serve tutto il comodino C'è un problema di fondo Che non trovo il codice Torniamo giù Torniamo giù Signori Torniamo giù Dobbiamo trovare il codice Per aprire la cassaforte Signori Il codice per aprire la cassaforte Ne vuoi frutta Una mela Grazie No Apri Ok Che cos'è che dobbiamo trovare noi? Tablet Computer tower Tablet 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 Può essere che qua è il tablet Yes Telefonino Lo vuoi il telefonino Il telefonino no Questo quaderno no Mi serve un codice Mi serve un codice Mi serve un Codice E il tizio sta tornando Il tizio sta tornando E non abbiamo il codice Signori miei Un'anatra no La statua Bella così Abbiamo preso pure la statua Abbiamo preso tutto Ci manca la chitarra Che dovrebbe essere in garage Veloce 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 Prima che torna il tizio Prima che torna il tizio La chitarra dovrebbe essere qua Non è qua la chitarra Raga La chitarra era qua Se sono presa la chitarra Non cazzo Non è la chitarra La chiave inglese non ci serve Martello Che cosa ho preso? Niente Assolutamente niente Mi serve una chitarra Dove è la chitarra Dove sta la chitarra Dove mi avete messo la chitarra Brutti Bastardi Ma hanno nascosto la chitarra Dove sta la chitarra Signori miei Mi serve un codice Mi serve un codice Mi serve un codice Sotto i cuscini Ci sono i codici? No Sotto i cuscini? No 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 Non ci sono i codici Non ci sono i codici Non ci sono i codici Non c'è nessun codice Non c'è nessun codice il colonniglio pasquale non ci serve torniamo su raga, torniamo su siamo messi male, siamo messi male no 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 che cosa è successo, si è buggato da solo il tizio ancora non è tornato dai dai così, dai così la chitarra, dove sta la chitarra? l'avete vista quella chitarra raga? la chitarra, la chitarra, la chitarra, la chitarra non c'era niente qui non c'era niente la chitarra, la chitarra, la chitarra la chitarra, la chitarra e qua, no Qui c'è un camodino che l'ho messo sotto sopra Qua c'è la cassaforte No, è tornato, è tornato Raga, è tornato, è tornato, è tornato Non trovo la chitarra Per due cose, raga, per due cose La chitarra, la chitarra, bello così Il codice c'è da qualche parte Sto cazzarò di codice, non c'è da nessuna parte Sto cazzarò di codice Questo è qua nell'armadio messo sopra No, 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 no No, 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 no No, il tizio sta entrando a casa Il tizio sta entrando a casa, siamo messi male Ti tiro un televisore in testa Ci mancava solamente il computer No, 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 spegni Spegni, spegni, spegni Spegni Che luce è acceso? Perché è acceso tutta questa luce il tizio? No, è diventato un canguro È diventato un canguro, no, questo mi picchia Questo mi picchia male, raga, questo mi picchia male Aiuto, 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 aiuto Accendi, accendi tutto, l'abbiamo triplato Abbiamo triplato il canguro, raga, siamo più veloci del canguro Dobbiamo cercare un computer, dobbiamo cercare un computer Raga, dobbiamo cercare un computer, dobbiamo essere veloci a cercare un computer No, non voglio scappare, voglio il computer Dove sta la tower del computer? Dove sta la tower del... Ti tiro un... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi serve un computer, mi serve un computer Puoi saltellare quanto vuoi, saltellino No, me ne andrò da questa casa se non trovo il mio computer Voglio un computer Aia, ma ha picchiato di nuovo Aia, aia, il cuscino, aia, il cuscino Aia, 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 aia Dov'è il computer, mannaggia, stiamo a girare sempre attorno alle stesse stanze Dai, coniglio, dai, sì, coniglio, dai, canguro Fammi vedere cosa sai fare, dai, dai Dai, 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 coniglio, dai, coniglio Ti tiro una sedia Ti tiro un piatto, ti tiro un piatto Ti tiro un bicchiere Ti... ti... no, sta passando in mezzo Ti tiro il bicchiere Ti tiro il bicchiere, ti tiro la bottiglia Ti tiro la... Uuuuh Violento il canguro Ti tiro... no, 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 è ripartito È ripartito, è ripartito, è ripartito No, le sedie... no, siamo morti Mannaggia la miseria Mannaggia la miseria infame Altra volta Altra volta, non c'è due senza tre, raga Non c'è due senza tre Allora, lista in mano Bicicletta, 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 bicicletta Sa dov'è, sa dov'è la bicicletta, raga La bicicletta è qua, per forza La bicicletta deve essere qua, per forza Infatti la bicicletta ce l'abbiamo Ok, via la bicicletta Non so come se la sta portando Computer Town Micronde, il micronde è qua, il micronde è qua Veloce, 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 veloce microonde 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 vai così poi altra cosa nella lista tv laptop e statua tv laptop e stato allora da tv laptop laptop bello così tv tv la tv della tv ora di qua una tv era di quanti tv 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 ok e poi computer town stato a chitarra e gold bar allora statua 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 qual è questa la statua la statua l'orologio antico lo vuoi lo vogliono già dico no mi sto perdendo in chiacchiere raga mi sto perdendo in chiacchiere dobbiamo trovare la statua la statua la statua il calice no non era un calice la statua la statua la statua la statua la chitarra è sovalla saliamo sopra saliamo sopra saliamo sopra saliamo sopra apri 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 corri 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 allora apri qua dentro qui c'è un anello che non ci interessa qui dentro ci sono soldi che ci pigliamo qui non c'è niente che interessante ok apri questa dobbiamo trovare un codice signori perché non riesco più a trovare i codici perché non riesco più a trovare i codici ma non è cosa trovare cos'è altro dobbiamo prendere computer tower computer tower statua chitarra la chitarra prima era qua dentro vediamo se ancora qui dentro la chitarra grandi che mi lasciano le chitarre dove dove sono nei soliti posti dai dai nemmeno di qua nemmeno di qua nemmeno trovare il codice per aprire la gold bar per aprire la cassaforte abbiamo trovato dei soldi apri apri prendi i soldi grazie chiudi l'app questo ti interessa no apri qua c'è qualcosa di interessante qua dentro no dobbiamo trovare dobbiamo trovare pick up butta la terra questo ci interessa noi non so cosa sia sta computer tower signori miei sono ignorante in materia no 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 già è l'orario sta per tornare il tizio sta per tornare il tizio questa cosa non è per niente buona salve la chiave la chiave abbiamo una chiave ma non so la chiave per aprire questa porta di qua dai 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 allora 30 52 signori miei 30 52 abbiamo preso il computer abbiamo preso il computer signori miei abbiamo preso il computer abbiamo preso il 30 52 signori miei 30 52 no mannaggia 30 52 apri dai 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 raga c'è anche solamente la statua la statua quale cazzarola è la statua dobbiamo trovare una statua da rubare raga dobbiamo trovare una statua da rubare una statua da rubare una statua da rubare una statua da rubare una statua da A rubare, dove stanno le statue raga In bagno Una statua che ti fa cacare No, è tornato il tizio È tornato il tizio, è tornato il tizio Una statua, una statua, una statua Le statue per forza giù devono essere raga Possono essere qua sopra le statue Il peluche, lo vuoi il peluche? No Qui non c'è niente, qui non c'è niente Spegnavo la luce, spegnavo la luce Voi non vedete niente se lo spengo la luce Via, 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 veloce, veloce Una statua, una statua raga Una statua, una statua, una statua, una statua Una statua Una statua, una statua, una statua Il peluche gigante, no Una statua, una statua, una statua Questa tra un po' mi picchia alle spalle Via, 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 se ti sembra che non lo so Infatti ce l'ho alle spalle, ce l'ho alle spalle Sta correndo pure veloce Sta correndo pure veloce raga Sta correndo pure veloce Dobbiamo essere più veloci di lui però Una statua, una statua, una statua Dov'è la statua, dov'è la statua Dov'è la statua, non so dove sia la statua Ti tiro una sedia zio, ti tiro una sedia Dimmi dov'è la statua, porca di una miseria Una statua, una statua, una statua, una statua Una statua, una statua, una statua La statua, la statua, via 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 Ce l'abbiamo fatta ragazzi Livello completato In 3 minuti e 55 secondi Siamo dei ladri professionisti Signori miei, abbiamo fatto un budget Di 37.892 37.892 Signori miei Bella così, bella così Bella così, record personale Abbiamo rubato tutto signori La culla può stare per dire, no, abbiamo rubato tutto signori miei Quindi bottino portato a casa Bella così ragazzoli Allora io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti Se volete altri episodi di questo giochino Ma lo dite che eventualmente ci organizziamo E li portiamo di nuovo per cercare di prendere ancora più cose Detto questo ragazzoli, buon pomeriggio Ci vediamo sempre qui sul canale per qualche altro contenuto Bella raga, ciao